E' una duia di grande successo, i risultati lo dimostrano, la partecipazione del pubblico dei turisti è veramente eccezionale, direi che le degustazioni stanno andando molto bene, molto meglio addirittura di anni già importanti come quelli scorsi, naturalmente nel panorama delle degustazioni assume un'importanza particolare il piatto d'autore da parte dei più importanti ristoratori della provincia di Asti. Stasera siamo con Giuseppe Palermino, titolare del ristorante La Braia di Montemagno, che ci dirà il piatto che è presentato stasera. Ho presentato i maltagliati con bocconcini d'anatra, con una crema di fagioli cannellini e uno stufato di verza con salsiccia, lardo alle erbe e tutto quanto. Sembra un piatto del territorio veramente favoloso, con un abbinamento di un vino eccezionale della Barbera d'Asti d'OGC che si sposava magnificamente. Direi che già sentirne parlare ti viene la colina in bocca, poi per quanto mi riguarda io ho apprezzato direttamente un piatto direi favoloso, tra l'altro ha avuto grande successo, pensate che questi piatti d'autore sono prenotati già da giorni, sono 4 turni di 120 persone, quindi addirittura si va intorno alle 500 persone che possono apprezzare un piatto di alta qualità. Il fatto di abbinarlo con la Barbera d'Asti di OCG, tra l'altro superiore, è significativo in un momento in cui alla Duia stiamo promuovendo insieme agli altri vini soprattutto la Barbera che è un po' la bandiera del nostro territorio insieme all'Asti Spumante. Ecco Giuseppe, dici ancora qualche notizia sul tuo ristorante, sappiamo che è uno dei ristoranti più importanti, più interessanti, anche quali sono un po' i piatti tipici, ma soprattutto ecco dove si trova. Dunque il ristorante si trova a Montemagno, in provincia di Asti, tra Asti e l'Alessandrino, abbiamo aperto questo ristorante 36 anni fa circa, quindi siamo sempre andati in crescendo e abbiamo cercato di fare tutto il possibile per il territorio e per la qualità. sembra che ci stiamo riuscendo, almeno lo speriamo, adesso ci sono anche i figli che ci credono e continuano ad andare avanti e di questo sono veramente soddisfatto e orgoglioso. Ma l'enogastronomia e la ristorazione sono importantissimi su un territorio che vuol promuovere i propri prodotti tipici, i propri vini e i ristoranti sono un po' il biglietto da visita per quanto riguarda il turismo sul nostro territorio. Anche stasera direi che abbiamo fatto un grande successo.